amiche amici di rossini tv eccoci di nuovo qui sabato 12 marzo 2022 è il terz'ultimo giorno che vi diciamo di andare a vedere il canale 633 per vedere rossini tv perché come sapete dal 15 di marzo saremo sul canale 80 del digitale terrestre quindi non dimenticatevi questa cifra 80 che oltretutto noi possiamo anche rimandare agli anni più belli della nostra vita e gli anni più belli della nostra vita che oggi coincidono con quelli di camilla murgia che siamo contentissimi di avere qui a wipesaro tv grazie mille dell'invito e buonasera a tutti camilla benvenuta con noi abbiamo parlato di anni 80 tu vieni da quegli anni del vero senso della parola hai una lunga storia si può dire fatta di crescita di crescita personale di vicinanza alla politica ed eccoti che da tre mesi sei assessore esattamente la mia storia e l'impegno politico nasce un po con la con l'arrivo su questa su questa terra perché comunque la politica è sempre stata vissuta molto attivamente nella mia famiglia poi diventa per me un impegno quotidiano già insomma adesso non dico proprio esattamente gli anni ma negli anni 90 mi sono avvicinata alla politica sono entrata nella sinistra giovanile e lì mi sono data da fare in maniera attiva nel nella vita politica della città da studentessa e poi ho continuato magari allontanandomi proprio dalla prima linea politica ma continuare a fare politica nella nella vita nelle varie iniziative che ho avuto la fortuna di poter seguire e poi arrivo adesso a insomma ricoprire questo ruolo bellissimo che mi inorgoglisce molto e ammetto anche che sia un po complicato però mi piacciono le sfide bene sicuramente c'hai la stoffa per farlo appartieni a quella classe noi abbiamo già aspettato diversi amici dell'amministrazione di pesaro più o meno i coetani che hanno avuto un percorso simile è doveroso ricordarne oggi uno di questi di queste persone uno una persona che non c'è più da due giorni purtroppo si chiamava daniele tagliolini era il presidente di mal di marche multiservizi e tu l'hai conosciuto bene io ho avuto la fortuna di conoscerlo sia in una maniera personale che in modo professionale seguendo la stagione teatrale tramite amat della provincia di peso l'urbino negli anni in cui lui ha ricoperto il ruolo di presidente è stato davvero una guida e anche un compagno di avventure di nuovi progetti che io lucia ferrati che seguivamo questa meravigliosa iniziativa sentiamo molto vicino e oggi ci manca moltissimo ci si rende conto anche proprio dalla tua emozione perché effettivamente al di là no della conoscenza più o meno approfondita con le persone in senso assoluto un giovane di 44 anni che comunque si è dimostrato valido per tante cose si è dato tanto da fare nel nell'ambito civile viene a mancare in questo modo chiaramente una perdita per tutti è una perdita per tutti ma la cosa migliore per poterlo ricordare portare avanti le sue idee le sue battaglie e tutti noi saremo pronti a raccogliere tutte le sfide che ha lasciato ahimè incompiute ma siamo prontissimi a camminare anche per lui prontissimi e motivatissimi così come ci sono tante motivazioni per fare oggi un discorso complesso ricco di contenuti abbiamo tanti temi da affrontare cominciamo con il primo che è quello più attuale è quello che più vive la realtà di tutti i giorni basta accendere la televisione comprare un giornale rendersi conto di quello che sta succedendo a poco più di 3.000 chilometri da noi c'è una guerra in ucraina vediamo il servizio che abbiamo realizzato i giorni scorsi per capire come la protezione civile sta aiutando la popolazione ucraina attraverso una raccolta di cose molto utili che saranno portate poi nei luoghi dove servono più di 50 quintali di materiali raccolti è questo il peso della generosità dei pesaresi è questa la quantità di prodotti destinati al popolo ucraino in fuga dalla guerra dall'invasione bellica della russia sta arrivando di tutto qui alla protezione civile nella sede di via lombardia dove i pesaresi possono portare questi materiali dalle 9 alle 11 di mattina e dalle 17 alle 19 di pomeriggio si raccoglie di tutto si raccoglie da merendine latte succhi di frutta tè legumi scatolame prodotti per l'igiene dagli assorbenti ai pannolini alla stessa carta igienica tanta generosità accumulata in cinque giorni di raccolta ci sono molte donazioni infatti stiamo riempendo perché ancora siamo abbiamo qualche problema con le spedizioni però abbiamo addirittura anche i furgoni pieni di conseguenza arriva molta gente c'è molta solidarietà da parte di pesaresi e dunque si può portare il materiale qui alla sede della protezione civile in alternativa per avere informazioni c'è il numero attivato in collaborazione tra comune di pesaro e protezione civile lo 0721 387616 pesaro per l'ucraina ripetiamo si raccoglie qui il materiale materiale che al momento è stoccato non c'è ancora la costruzione di un canale diretto verso l'ucraina o perlomeno verso il confine ma si conta di crearlo a breve noi facciamo due tipi di assistenza diciamo così alla gente che arriva a peso le famiglie che si ricongiungono qui con i pesaresi diamo qualcosa quello che ci chiedono in più ricopriamo tutta questa roba per mandare appunto in ucraina e mi stanno dicendo quelli che stanno organizzando che domani dopo domani dovrebbe aprire questo canale con l'ucraina camilla al di là della dell'iniziativa della protezione civile delle tantissime iniziative che ci sono anche il comune si è dato tanto da fare veramente ha messo le mani in una situazione nella quale c'è bisogno il comune è sempre in prima linea quando si parla di diritti umani di diritti civili e di contrasto all'odio mi sembra che la situazione che stiamo vivendo racchiuda tutte queste sfaccettature ed è nostro obbligo nonché un diritto di tutti portare avanti questa questo impegno lo stiamo facendo attraverso l'aiuto della protezione civile della caritas e tutte le associazioni di volontariato che vivono attivamente nel nostro territorio e lo facciamo anche con delle manifestazioni e con una parte attiva pensando non solo ai profughi che stanno arrivando e quindi dando loro il miglior la miglior situazione di accoglienza possibile ma anche formando e parlandone con gli studenti nelle scuole o chiamandoli direttamente all'impegno dato che parlavamo di impegno politico e di impegno sociale anche attraverso manifestazioni che abbiamo che stiamo facendo che abbiamo fatto negli ultimi giorni tu hai utilizzato una parola poco fa odio e fra le altre cose proprio tu sei un assessore l'assessore alla gentilezza l'assessore contro l'odio mi viene da dirti ma come può esistere davvero e come può significare ancora la parola odio la parola odio emerge ogni volta che la gentilezza viene messa in secondo piano molte mie ex colleghe docenti quando hanno saputo che appunto sono diventata sarei diventata assessore sono diventata assessora mi hanno detto che bello perché la gentilezza è un valore che dovremmo iniziare utilizzare io penso che sia l'unico modo per contrastare l'odio e pensieri violenti cioè alternare dare un'alternativa con un pensiero gentile un pensiero gentile che si può semplificare in maniera molto semplice dal ringraziare quando riceviamo qualcosa o dal salutare quando entriamo in una nuova in un nuovo spazio sembrano delle situazioni o delle cose molto semplici ma poi nella quotidianità sono invece ancora degli obiettivi da raggiungere in molti in molti ambienti questo è la prima è la prima azione che possiamo fare che mi sento di portare avanti poi io sono abituata a lavorare sempre con un in squadra e con uno spirito ottimista molto positivo anche se la parola positivo usciti dal covid dal periodo topico non è proprio però noi noi diamogli significato giusto perché la parola positiva in realtà ha un significato giusto un significato bello e noi adesso in questa superata non ne siamo ancora usciti perché sappiamo che i problemi ci sono però davvero diamo alla parola positivo la sua accezione positività positività e positività e anche saper conoscere i fatti che ci circondano ho lanciato pochi giorni fa questa iniziativa le parole per dirlo perché mi sono proprio immedesimata appunto nelle mie colleghe a scuola che si trovano di fronte a mille domande degli studenti su questo momento storico e a volte anche noi docenti non abbiamo le parole esatte e corrette per poterlo spiegare senza creare magari degli allarmismi o essere superficiali consentimi il termine in alcuni passaggi quindi l'iniziativa che ho pensato per le scuole di primo e secondo grado quindi medie superiori serve proprio a fare un focus aiutare i docenti a parlarne nelle classi tu ti riferisci alle parole per dire le parole per questa meravigliosa iniziativa che si chiama le parole per dirlo che anche qui abbiamo realizzato un servizio e lo facciamo vedere perché perché ci dà l'idea su quello sulla sensibilità dei giovani la sensibilità dei giovani che hanno comunque contribuito di tasca loro simbolicamente magari ma lo hanno fatto al liceo al liceo classico mamiani hanno contribuito di tasca loro a dare un'aiuto all'ucraina vediamo questo servizio e poi ne parliamo continuano a moltiplicarsi a pesero le iniziative di solidarietà in favore della popolazione ucraina da oltre una settimana sotto i bombardamenti russi una crisi umanitaria un dramma davvero toccante anche per la sensibilità degli studenti della città e qui al liceo mamiani è partita una iniziativa davvero lodevole un euro a studente in favore dell'ucraina un piccolo gesto un piccolo e un piccolissimo esborso economico ma che può fare una grande differenza perché questa è la scuola numero alla mano più grande della città circa 2200 studenti e va da sé che dunque arriva un grande contributo dal liceo mamiani in questa operazione coordinata dalla onlus gulliver e prodotta verso l'ucraina da parte della caritas diocesana è un'iniziativa che partita da gli studenti in particolare il rappresentante d'istituto che ringrazio appoggiata da alcuni professori che hanno collaborato all'aspetto organizzativo e poi noi abbiamo come come scuola già una convenzione con lollo sculliver con andrea boccanera che è il suo presidente quindi ci ha offerto collaborazione per gestire questa situazione i ragazzi raccoglieranno un euro a testa i nostri studenti sono molti sono circa 2150 e anche i professori avranno modo se lo desiderano di contribuire tutto il ricavato di questa raccolta sarà inviato alla caritas è importante anche che i ragazzi si attivino che si informino per esempio oggi oggi loro molte classi hanno un incontro con il professor giannelli dell'università di urbino per parlare degli aspetti sia attuali che storici della situazione ucraina loro questa questa situazione la vivono con molta angoscia con molta ansia e hanno bisogno anche di essere da una parte di dare il loro contributo ma anche di essere informati di capire il più possibile qual è la situazione la scuola si sta attivando per fare anche questo solidarietà da parte del liceo mamiani che si unisce al canale diretto costruito dalla caritas per il trasferimento di fondi e alla organizzazione della onlus gulliver che invita ad allargare il tiro oltre al mamiani a tutta la città e alla sua popolazione studentesca noi ringraziamo il tutore lisotti tutti i studenti mi mani per questa cosa bellissima perché ripeto un euro a studente una piccola cosa con i numeri del mamiani i numeri degli genitori dei docenti riusciremo sicuramente a fare una bellissima raccolta la raccolta ripeto e avverrà oggi sabato domenica lunedì mattina è aperta a chiunque vuole contribuire il mio invito quello di a scuole asili semplici classi genitori di auto organizzarsi e partecipare a questa iniziativa del mamiani perché è una cosa importante che serve in in questo momento la raccolta fondi ha un'efficacia diversa rispetto alle iniziative pur meritevoli della raccolta di materiali sì tutti i canali ufficiali che arrivano attraverso caritas quindi la comunicazione viene fatta dalla carita dagli organi istituzionali dice di non inviare pacchi alimenti o altro la popolazione ai caritas limitrofe all'ucraina servono finanziamenti quindi il nostro invito è quello di partecipare alla raccolta del mamiani un euro per noi è poco tutti insieme possiamo fare una grande cosa camilla le parole per dirlo è un'iniziativa straordinaria perché riuscire a comunicare nella maniera giusta e a fare comprendere quello che si vive quello che si vorrebbe che si dovrebbe dare tutto per fare il meglio io penso che sia un passo fondamentale nella vita educativa di tutti noi io penso che la comunità educante abbia una responsabilità molto grande verso le nuove generazioni abbiamo il compito noi istituzioni la scuola ma anche gli adulti di questa società a guidare a rassicurare i ragazzi in questi momenti difficili ne parlavamo durante la pandemia ne parlo ancora con più forza oggi l'iniziativa serve per questo da una parte aiutare i ragazzi a comprendere il momento storico e a trovare anche le parole per parlarne con l'aiuto di alcuni studiosi penso a marco gualtieri ricercatore dell'università infatti come si svolge esattamente mi sembra che ci sono una serie di incontri specifici dedicati alle varie classi alle varie alle varie fasce d'età con docenti con persone dedicati ognuna a una a una fascia d'età e un docente lo fa due volte esatto è un pedagogista lui lo insomma lo ha interpellato l'abbiamo interpellato perché l'iniziativa è in collaborazione con il centro per le famiglie l'ufficio scolastico provinciale e anche la consulta studentesca e questo significa che questi ospiti parlano sia gli studenti ma raffaele mantegazza pedagogista parlerà anche ai genitori e fondamentale fondamentale per trovare appunto le parole per raccontare la guerra appunto proprio per non spaventare non allarmare i nostri ragazzi io penso sempre che la conoscenza e l'approfondire alcune tematiche ci dia la possibilità di avere meno paura non significa che la situazione che stiamo vivendo non sia spaventosa e drammatica ma avere gli strumenti per poter una bussola per poterti muovere all'interno di questa realtà è fondamentale anche per non perdersi certo perché poi fa paura appunto accendere la televisione vedere quello che succede ragazzini bambini che sono impressionati che tornano a casa dicendo mamma ma adesso cosa ci succede a noi ecco riuscire a trasmettere i concetti nella maniera giusta è credo che sia proprio l'obiettivo di questa iniziativa sì e questo è anche rendere più protagonisti i ragazzi perché a volte appunto l'impegno politico anche l'impegno nella vita sociale nell'impegno proprio civico di una persona nasce in un'età molto molto precoce solitamente l'adolescenza e in questo momento in cui i ragazzi si sono sentiti un po con le ali tagliate perché durante la pandemia molte delle possibilità che avevano a disposizione solitamente non sono state concesse e allora è ora di dare loro davvero gli strumenti per poter rimmaginare un futuro e ricostruirlo anche in questo momento drammatico in cui il domani sembra così incerto però le istituzioni servono a questo e dove la scuola non arriva dove anche l'amministrazione non arriva è giusto parlare con i genitori perché loro sono i primi referenti nella vita di un figlio di un ragazzo sono i primi educatori sono i primi educatori quindi i primi cittadini a dover trasmettere questo senso di appartenenza anche ai figli anche perché poi questa settimana è stata la settimana dell'otto marzo la festa della donna io credo l'abbiamo detto tantissime volte con tante persone con tante persone anche che conosci te sempre nell'ambito della della politica della società la cultura nasce dalla scuola la cultura nasce in età proprio giovanile giovanilissima scusate questa parola che non esiste ma che coniughiamo in questo modo quindi credo che anche per quello che riguarda la violenza sulla donna il rispetto la parità di genere se si partisse davvero dall'età minima nella quale si cominciano a comprendere questi concetti sarebbe diverso esattamente noi lo stiamo facendo abbiamo tantissime azioni a parte per la settimana dedicata proprio alle celebrazioni del tema delle tematiche femminili abbiamo proprio dei percorsi condivisi con associazioni di esperti già di formazione e sensibilizzazione all'interno delle scuole questo però non basta e quindi sì benissimo la settimana piena di iniziative quelle ufficiali del comune ma questa città è stata davvero promotrice di un palinsesto di iniziative che spaziano in ogni ambito della vita non solo femminile ma proprio della società e di questo io sono fortunata perché rappresento sicuramente in maniera istituzionale un molto un mondo molto vivo sulle pari opportunità e sul contrasto all'odio in tutte le sfaccettature molto spesso mi sono ritrovata in queste giornate di appunto celebrazioni delle tematiche femminili a pensare come sarebbero questi tavoli di trattative per la pace se ci fosse seduta qualche donna e quindi se la voce femminile fosse portata e fosse davvero presente in quel mondo paritario che vogliamo costruire la voce delle donne al momento in quei tavoli non c'è e questo come ho detto anche in un'iniziativa a cui ho partecipato al liceo mamiani pochi giorni fa ci deve spingere a fare ancora di più a pretendere davvero che questa equità di cui si parla tanto sia realizzata in tutte le sfere poi della vita anche quelle più difficili come i tavoli di trattative di pace le iniziative della festa delle donne per la festa delle donne si concluderanno poi lunedì con un grande lavoro in consiglio comunale interessantissimo perché affronta un'altra problematica che tocca e nella quale le vittime nella maggior parte dei casi sono donne esattamente stiamo parlando di un documento sul revenge porn e che è stato creato come un lavoro condiviso dalla commissione donne lette di cui io prima di questo insomma nuova nomina facevo parte ed è un percorso che ha visto tre temi fondamentali iniziando dal body shaming passando per il cat calling e adesso arriviamo al revenge porn proprio perché ci siamo concentrati su dei nuovi fenomeni di cui ancora si conosce pochissimo ma che per chi nasce donna rappresentano la quotidianità ogni giorno a partire da un'età bassissima e quindi specialmente sul cat calling molte volte è stato difficile anche spiegare esatto e spieghiamo a chi ci segue esattamente cat calling cosa si intende cat calling è il fenomeno per cui una donna riceve degli apprezzamenti non graditi o non richiesti e mentre cammino in situazioni del tutto informali e che qualche mese fa era stato agli onori delle cronache perché la cosa era capitata una persona nota e ci ricorderemo esatto questo però parlando anche con le studentesse o anche con le giovani con le giovanissime è una cosa che a loro capita non dico quotidiana quotidiana ma spessissimo tanto da influenzare a volte i tragitti che loro fanno abitualmente per arrivare da scuola a casa perché sanno che in un determinato luogo magari ci può essere qualcuno che ha già fatto delle osservazioni o ha semplicemente fischiato questo è comunque un reato perché abusa della libertà dell'altra persona e ancora di più non tiene in considerazione la dignità dell'altra persona certo tu sei l'incarnazione del fatto che comunque il mondo cambia che anche grazie al fatto che ci sono donne come te noi speriamo e siamo tutti i giorni a vedere un'evoluzione sono tre mesi circa due mesi poco più che tu sei assessore se dovessi trarre un bilancio veloce proprio di questo inizio di questa esperienza così stimolante così difficile allora direi esplosiva io sono entrata in un momento in cui la scuola era nella ripresa dopo le vacanze di Natale in un momento di grande difficoltà e quindi sono entrata possiamo dire proprio al centro del ciclone ed è stato molto interessante e stimolante riuscire a superare quel momento di difficoltà con un grande team il grande team è il team dei servizi educativi e quindi tutte le donne e i ragazzi che lavorano nei miei uffici ma molto di più anche il team proprio della giunta comunale e di tutte le maestre di tutti gli insegnanti dirigenti che poi come in una grande rete si sono dati da fare la forza dei servizi educativi di Pesaro di cui si sente tanto parlare di cui io ringrazio chi insomma di avermi lasciato in eredità insomma davvero un patrimonio inestimabile ma perché è fatto dal lavoro appassionatissimo di donne e di uomini che si dedicano pensando davvero di portare un bene aggiunto alla città quindi davvero esplosivo io sono molto entusiasta di questa avventura chiaro capisco la difficoltà del ruolo e anche l'importanza la responsabilità che c'è dietro il ruolo di assessora però insomma lo si vede dalle iniziative che ho iniziato subito a fare ho molta voglia di fare anche perché sento che c'è bisogno poi per toccare un altro tema l'ultimo che oggi andremo un po' ad approfondire avete visto di quante cose abbiamo parlato veramente incredibile ma temi come la guerra la comunicazione la comprensione dei bambini e chiudiamo con l'ambiente perché ieri sera venerdì c'è stata questa manifestazione mi illumino d'immenso il cui nome viene un po' ripreso dalla famosissima poesia di Ungaretti mattina mi illumino d'immenso quindi qui avremo mi illumino di meno in cosa è consistita in questa pedalata nello spegnimento delle luci? allora sì in realtà mi illumino di meno quest'anno l'amministrazione l'ha vissuto in una maniera molto più articolata abbiamo iniziato dal giovedì 10 con un menù sostenibile in tutte le scuole sia materne quindi dell'infanzia e primaria della città 2.900 pasti sostenibili in cui i bambini con un menù condiviso in tutta quasi tutta la regione aderendo a Food Insider che è un'iniziativa nazionale hanno potuto mangiare un menù buono sotto due punti di vista sia per l'ambiente bassissimo impatto ambientale quindi sostenibile esatto sia buono io sono andata a degustare chiaramente il menù insieme ai ragazzi in una scuola della città e ammetto che era davvero squisito e anche il gradimento delle famiglie su questo prodotto scusa la curiosità dove sei andata l'alberghiero che fanno da mangiare benissimo no in realtà sono andata in una scuola primaria sono andata alla Gian Santi insomma ero di passaggio lì e quindi mi sono fermata a mangiare in quella scuola e anche però avendo il feedback da parte di tutte le maestre l'indice di gradimento è stato quasi al massimo quindi stiamo parlando di 3.6 mi sembra su un punteggio massimo di 4 quindi i bambini hanno apprezzato le famiglie di conseguenza hanno potuto comunque anche sperimentare cosa che fanno abitualmente un nuovo modo di mangiare che rispetti l'ambiente che sia buono come dicevo prima sotto due punti di vista un'altra iniziativa sempre nella giornata di venerdì nella mattina prima della pedalata abbiamo piantato nella scuola di Santa Maria dell'Arzilla all'arca delle colline delle piante con un lavoro proprio di partecipazione attiva dei bambini della scuola elementare ed è stata davvero una bellissima mattinata che fa capire quanto poi il comune investa proprio in un ruolo attivo da parte del cittadino anche piccolissimo nel farlo sentire protagonista di una macchina molto più grande che è poi la società e l'ultima chiaramente l'iniziativa non per ultima per importanza ma forse è stata quella anche più conosciuta anche attraverso la comunicazione che abbiamo cercato di mettere in atto anche perché poi è una manifestazione in realtà che si è sviluppata a livello nazionale che ha avuto già da tanti anni esiste perché mi pare che siamo arrivati intorno al diciottesimo anno in cui si sviluppa quindi è una manifestazione davvero importante, eclatante diciamo e questo non è stato ripeto solo una manifestazione perché poi di manifestazione ne possiamo fare tante ma davvero abbiamo visto la partecipazione attiva dei ragazzi cosa a cui io tengo moltissimo perché l'amministrazione può fare le manifestazioni più belle del mondo ma se poi non vengono vissute da quelli che saranno poi il nostro futuro insomma si perde una parte importante quindi la presenza degli studenti, della consulta studentesca, dei rappresentanti degli istituti è stato un valore aggiunto fondamentale nella manifestazione di ieri certo, in coinvolgimento a 360 gradi della società, la società civile che siamo noi tante volte noi diciamo cittadini ma i primi a essere cittadini siamo noi abbiamo fatto tutto il nostro iter e oggi viviamo questa società e facciamo di tutto per renderla migliore Camilla grazie, sei stata davvero molto esaustiva dicevamo i temi sono stati talmente tanti che magari uno credeva prima oddio non riusciamo a sviluppare, invece non è così perché sono venuti in maniera molto fluida stiamo vivendo dei giorni difficili ma dei giorni anche dove i valori importanti vengono fuori assolutamente sì, io vi ringrazio di avermi dato la possibilità di raccontare tutto quello che stiamo facendo tornerò a trovarvi con le nuove iniziative perché in pentola ne bollano tantissime intanto continuiamo così a dare una mano alla città e a tutto quello che saranno i prossimi giorni perfetto Camilla, noi ringraziamo chi ci ha seguito, chi ci ha voluto seguire fino in fondo vi diamo appuntamento fra due settimane per la nuova puntata di WePesaro TV ricordate saremo sul canale 80, buon weekend a tutti